Mi piace prendere in giro i talloni di Achille dei personaggi che mi ispirano, mi chiedono loro imitami e poi mi piace cantare, quindi qua unisco le due cose, è veramente una pacchia per uno che si diverte così questo programma poi è un programma di buon gusto, devo dire è un programma dove si fa veramente una performance quindi non ci sono litigi, non ci sono le solite cose che si vedono un po' in giro adesso si vede una performance, allora che sia bella, che sia brutta, che sia fatta bene, che sia fatta male c'è tanto impegno quindi la cosa che funziona è quella secondo me mi è accostato il baglione? Eh lo so C'è qualche personaggio che hai paura di mettere? Tutti, 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 poi il baglione è un mostro sacro quindi cosa fai? Cioè ti metti, io non lo voglio fare, non lo voglio fare perché è troppo inarrivabile, quindi poi c'è un sacco di fan quindi sicuramente sono soggetto a un sacco di critiche quindi non lo voglio fare Non è l'ora di imitare, ce n'è uno molto bello però non so se posso dirlo, perciò non so se si farà però c'è un personaggio molto bello non ci arriveresti, cioè non è un cantante alla fine però canta, non è un cantante però canta Ragazzi mi raccomando, dire giovani, questa è tutta roba di giovani ragazzi, se non mi seguite voi io sono un spacciato se ho bisogno di voi, dire giovani, seguitemi